Ciao qui Eri Prandi e in questa scatola alta più di 50 centimetri della quale purtroppo ci manca il coperchio più esterno, abbiamo il set Chogokin di X-Space Combination prodotto da Poppy nel 1980, in altre parole il God Sigma Deluxe, uno dei sogni proibiti dei bambini dei primi anni 80. Uchiu Taitei Godoshiguma, vale a dire God Sigma, l'imperatore dello spazio, era una serie anime prodotta dalla Toei nel 1980. Nell'arco di 50 episodi ci raccontava di una terra in un futuro ormai non troppo lontano nel 2050, quando grazie ad un lungo periodo di pace l'umanità aveva raggiunto ormai un progresso tecnologico incredibile. Purtroppo però la sua incolumità era minacciata dalla sovrappopolazione, che aveva costretto l'uomo a colonizzare altri territori nello spazio. Per la stessa ragione anche la carenza di risorse era un pericolo, ma fortunatamente il dottor Kazami era riuscito a scoprire una nuova e potentissima fonte di energia inesauribile che chiamò triplice energia. Per studiarla lo scienziato aveva fatto costruire una base in mezzo all'oceano chiamata Trinity City, dove avrebbe utilizzato la triplice energia per alimentare tre potentissimi robot, uno per l'aria, uno per il mare ed uno per la terra, che erano capaci di unirsi per formare l'inarrestabile God Sigma. Purtroppo la pace venne interrotta dai devastanti attacchi degli alieni provenienti dal pianeta Helder, che avevano annientato la popolazione umana della colonia sulla luna Io di Giove. Qui avevano instaurato una base dalla quale spedivano i mostruosi cosmosauri contro la terra. Per difendere l'umanità e contraattaccare, l'assistente del dottor Kazami, Nuguchi e due profughi della colonia Suyo si misero alla guida dei tre robot e si lanciarono in una terribile guerra. Battaglia dopo battaglia si scoprì che gli alieni di Helder venivano in realtà da 250 anni nel futuro, quando saranno i terrestri ad invadere il loro pianeta. E loro saranno costretti a mandare nel passato un contingente per cercare di scoprire il segreto della loro forza, la triplice energia appunto. Purtroppo questa storia così complessa ricca di significato, in cui incontriamo buoni capaci di macchiarsi di colpi orribili e cattivi che invece manifestano una grande umanità, come per molti altri anime dell'epoca era raccontata da una serie di episodi che singolarmente si presentavano molto schematici e in cui l'attenzione era posta principalmente su goffe animazioni di battaglie spaziali in cui ci si sfidava urlando i nomi delle armi e che si concludevano con l'utilizzo di un deus ex machina. Ciò non toglie che la presentazione di una trama così intricata ai bambini aveva un valore didattico che oggi si è perso, insegnava loro qualcosa in più del mondo in cui viviamo ed anche a mantenere più alto il livello di attenzione. Mentre Toei si occupava della serie animata, parallelamente lo sponsor principale, Poppy invece, ne realizzò i giocattoli, quindi in particolare i robot disegnati dal mecha designer Katsushi Murakami. Poppy era una compagnia giapponese nata nel 1971 come sezione della più grande Bandai, destinata alla produzione di giocattolini da vendere in negozi di caramelle o comunque attività commerciali diverse da classico negozio di giocattoli. Presto Poppy iniziò a realizzare gadget su licenza e quando mise in produzione una cintura indussabile per bambini tratta dalla serie Kamen Rider, che poteva anche accendersi con una vera lampadina, ebbe un successo grandioso. Seguito poi dal successo ancora più grande della prima motociclettina in metallo realizzata da Poppy tratta dalla stessa serie. Questo convinse la compagnia nel 1974 a realizzare un action figure su Mazinga Z, piccolino realizzato per la maggior parte in lega metallica, inaugurando una linea di personaggi in metallo tratti da anime e serie tokusatsu che prendeva il nome proprio dalla mitica e immaginaria resistentissima lega metallica della quale Mazinga era costituito i Chogokin. Come capostipite della linea Mazinga venne battezzato GA01 dando inizio ad una nomenclatura che caratterizzò tutti quanti i Chogokin. Per assicurarsi di coprire ogni fascia di mercato, Bandai con la stessa licenza realizzava giocattolini estremamente economici così come altri invece molto dettagliati e costosi. In particolare Poppy per la sua linea Chogokin, dopo aver realizzato un certo numero di personaggi alti 4 pollici e mezzo in metallo ma dalla struttura piuttosto semplice e classificati con il marchio ST che stava per standard, introdusse un nuovo giocattolino, il GA09, nella classe Deluxe DX. Si trattava di un ride in trasformabile. Viene riconosciuto come il primo giocattolo di robot in metallo trasformabile. Da quel momento nella serie Chogokin, oltre ai personaggi standard ST appunto, venivano realizzati ogni tanto giocattoli ben più costosi e complessi, Deluxe DX, che finalmente potevano compiere le trasformazioni che vedevamo nelle serie animate ed è in questa famiglia che si colloca il nostro God Sigma. Il nostro set include tre Chogokin Deluxe. Il numero uno sarà il GB18, Kurai-O, per noi Tuono, il robot del cielo. Al numero due abbiamo il GB19, Kaimei-O, per noi Nettuno, il robot del mare. Ed il terzo è il GB20, Rikushin-O, vale a dire Terremoto, il robot della terra. Come gli altri Chogokin DX e molti giocattoli simili dell'epoca, fanno eccezione i primi ST della linea Chogokin, anche il God Sigma era disposto con il suo ricco corredo di accessori in un alloggiamento di polistirolo. E finalmente vediamo i robot, iniziando dal principale, Kurai-O. Per noi Tuono, Guardiano dei Cieli, codificato come GB18. Un robotone alto quasi 20 cm in metallo e plastica. In particolare metallo lo troviamo nel torace e nelle cosce. Esistevano fra i Chogokin di Poppy e la produzione di altre compagnie dello stesso panorama robot con più parti in metallo, ma non significa necessariamente che fosse una condizione migliore. Il metallo dà soddisfazione al tatto ed è bello pesante, ma non ha flessibilità, non dà attrito e i colori vengono via adesso molto facilmente, quindi non è la scelta ottimale per le parti mobili. Le parti in plastica del robot sono prodotte molto bene, di buona qualità e stampate bene. Questo era uno dei tratti che distinguevano i Chogokin di Poppy e anche i robot Takara, forse ancora di più, da una buona parte dei robot prodotti da altre compagnie, cioè la qualità delle parti in plastica. Il God Sigma Deluxe era forse uno dei robot con la scelta di materiali più sofisticata e funzionale. Le sue antennine, ad esempio, sono in gomma flessibile. Se fossero in plastica rigida si spezzerebbero, non si piegherebbero e giocandoci salterebbero via nel giro di pochi minuti. Insomma, queste parti in gomma non erano indice di pigrizia da parte della compagnia, al contrario, erano uno sforzo produttivo in più finalizzato a produrre un giocattolo più resistente. Smalto nero, rosso e bianco sulle parti di metallo e un sacco di pittura metallizzata. Invece sulla plastica nera si è un pochino consumata sul nostro, forse il sudore delle mani dei bimbi che ci hanno giocato negli anni. Giocattoli come questi sono difficili da trovare nuovi o in condizioni veramente ottime. Il nostro è messo già molto bene. Un bel diadema applicato qui sul petto, invece queste parti qui gialle sono in plastica effettivamente gialla, non sono state colorate dopo. I punti di articolazione saranno pochissimi, questo è un tratto comune nei vecchi Chogokin, a differenza di solo Chogokin che Bandai ha prodotto molti anni dopo per i collezionisti. In particolare il nostro tuono potrà muovere le braccia in avanti e indietro, tra l'altro il movimento è a scatti, così resteranno in posizione, carino. Forse dovrebbe essere in grado di muovere la testa, non ne siamo certi ma non abbiamo neanche voglia di sforzare più che tanto, visto che sarebbe facile rovinarlo e perderci anche un sacco di soldi. Qua dietro sulla schiena leggiamo il codice GB18 e naturalmente Made in Japan. Ci sono altre parti mobili nel giocattolo ma non servono a dargli pose particolari, saranno parte della trasformazione. Custoditi dentro i suoi piedi troviamo i pugni della formazione più grande, i pugni del God Sigma. Per tuono abbiamo delle armi e iniziamo da queste estremità in plastica cromata che possiamo inserire nei forellini che ha sulle spalle, a destra e a sinistra, mettiamolo pianino da una parte e dall'altra queste gli serviranno per sferrare quello che nella serie animata era tradotto come colpo del tuono. Abbiamo poi l'arco, quindi vi facciamo portare i bracci in avanti, sempre belli questi scatti ed ecco il nostro arco in plastica rossa stampato molto bene. Come dicevo i Chogokin di Poppy avevano le parti in plastica stampate molto bene, altri robot prodotti da altre compagnie in quegli anni in Giappone avevano invece le parti in plastica pessime. Per finire abbiamo una spada che nella serie animata usciva dalla sua gamba. Questa è una delle tre spade che troviamo nella confezione di questo giocattolone. È in plastica cromata e chiaramente purtroppo giocando questo colore si rovina quindi qui sulla punta sul nostro God Sigma il colore è rovinato e anche sul manico perché ogni volta che gli faremo impugnare questo colore verrà sfregato via. I pugni hanno un buco rotondo nel quale possiamo infilare il manico della nostra spadona. Vediamo se riusciremo a farlo senza grossi danni ma insomma fa sempre un po' paura. Immancabili nei robot giapponesi. Proprio a partire dal vecchio GA-01 capostipide di questa linea di giocattoli sono gli avambracci sparati. Preniamo i bottoncini gialli che sono proprio all'altezza del gomito e facciamo sparare i pugni al nostro God Sigma. uno ve la via anche l'altro eccolo qui meglio se non finiamo per terra e abbiamo anche due pugni di scorta questo capitava spesso evidentemente avevano chiara l'idea che prima o poi un bambino avrebbe perso uno dei missili. Una particolarità è che la molla che farà scattare via il pugno è nascosta proprio dentro il polso non fa parte del cannone ma fa parte del missile. Per ogni pugno abbiamo sul polso tre forellini che ci permetteranno di incastrare il pugnetto in posizione orizzontale così oppure verticale in questo modo quindi non sarà propriamente articolato ma potremo comunque dargli posizioni diverse. Per trasformarlo ci aiuteremo con il manualetto di istruzioni che era incluso nella confezione tradotto in italiano dall'importatore Cepirati. Nelle istruzioni troveremo anche dettagli sui tre singoli robot. Qui il pilota è Dentoshi e abbiamo un robot in alto 47 metri per il peso di 400 tonnellate e la velocità massima di Mach 5 ben 5 volte la velocità del suono. Meno male che è stato tradotto tutto quanto. Guardiano dei mari oppure Sea King sarà il Kaimeo per il pubblico italiano chiamato Nettuno. Un robot in alto 18 centimetri e mezzo ma quando giocheremo diventeranno 47 metri per 300 tonnellate. Il secondo robotone del set è dunque quello blu e giallo fondamentalmente ma ci sono applicazioni di pittura e inserti in plastica cromata che danno un sacco di dettagli molto molto belli. Di nuovo in metallo e plastica questa volta il metallo è limitato alla parte inferiore delle gambe e non è una scelta insensata. A composizione completa quando avremo costruito il nostro God Sigma la parte bassa di questo robot costituirà il piede destro del robotone gigante e quindi ci sta che sia in metallo. Il resto invece è in plastica. Da vicino possiamo apprezzare ancora meglio il dettaglio delle sue gambe perché è veramente splendido. Hanno inserito queste parti in plastica cromata. Sono tubicini e parti meccaniche appoggiate sulla gamba in metallo ma non aderiscono perfettamente quindi c'è una bella profondità. Significa anche però che queste parti saranno piuttosto delicate. Non dimentichiamo che la plastica cromata deve essere sempre rigida e non flessibile perché la pellicola della cromatura altrimenti verrebbe via. Come risultato però questi due componenti si spezzeranno con fuoco. Al contrario le antennine sulla testa del robot sono in gomma molto flessibile. Questo è uno sforzo produttivo ulteriore. Come abbiamo detto tante volte significa che hanno avuto premura di renderle resistenti. Non si rompono quando urtano qualcosa. Molto bello. Come sempre poche articolazioni sul nostro robot. La posabilità non era certo una delle priorità nei vecchi Chogokin. Quindi possiamo muovere solamente le braccia. Però queste si muovono parecchio. Le possiamo muovere in avanti e indietro con movimenti a scatti molto ampi. Significa che ci sono poche posizioni nelle quali riusciremo a sistemare braccio però risulta molto bello al tatto. Le braccia però hanno anche articolazione a sfera in sostanza. Possiamo allargare le spalle e fargliela alzare in questo modo. In solito oltre a questo possiamo ancora piegare i suoi gomiti. Quindi qualche movimento in più del solito noi lo apprezziamo. I giunti su questo robot sono molto molto rigidi. Io non ho nessuna voglia di sforzarli perché ripeto si tratta di un giocattolo ormai molto costoso e soprattutto se vogliamo trovarli in condizioni così buone. Anche il nostro GB19 rimane coerente con la tradizione dei robottoni Chogokin. E di nuovo possiamo fargli sparare i pugni, anzi in questo caso le mani perché sono pronte per impugnare qualcosa, non sono strette le sue dita. Basterà premere questi bottoncini gialli sui suoi avambracci. Vediamo quanto forte verrà sparato via il proiettile. Beh, non tantissimo nel suo caso. Questo significa fortunatamente che non dovrà andare a cercare la sua manina sotto al tavolo. Uh, l'altro è partito molto molto più forte. C'è ancora una funzione meccanica per il nostro Nettuno ed è la possibilità di sparare via il ditone del suo piede destro. Questa qui è una fessura, un buco. Possiamo infilarci dentro il ditone, incastrarlo e poi premendo questo bottoncino giallo lui potrà spararlo via. Abbiamo due accessori per il nostro Nettuno. Uno è quella che nel doppiaggio italiano era chiamata probabilmente catena roccia. Questa specie di mazza ferrata, una specie di frusta, realizzata in una gomma molto flessibile. Quindi di nuovo complimenti a Poppy che aveva scelto il materiale in maniera funzionale. È perfettamente adatta per frustare i nemici. È nera ma ricorda decisamente nella forma l'accessorio, l'arma che il personaggio utilizzava nella serie animata. E poi abbiamo questa specie di fiocine in plastica rossa, abbastanza rigida. Decidete voi se si tratti dell'arpione o della balestra cosmica. Mi sembra che siano piuttosto simili tutte e due con quella punta tridente. Terzo ed ultimo robot del set, non direi gift set visto il prezzo, sarà il protettore della terra. Il Rikushin O per noi, terremoto codificato da Poppy come GB20. Un altro robottone alto 47 metri per 300 tonnellate ridimensionato a 18 centimetri e mezzo per entrare nella nostra scatola. Per simmetria con la gamba destra del God Sigma, anche qui abbiamo un robot quasi interamente in plastica. Il metallo è concentrato nella parte bassa delle gambe, insomma i suoi piedoni. E sarà utile visto che questi saranno i piedi del God Sigma e dovranno bilanciare un robottone molto più alto. È bello toccare un giocattolo in metallo ma gli effetti collaterali li vediamo sulla punta dei piedoni del nostro Rikushin O. È andato via un po' di colore perché lo smalto da questi metalli viene via al primo urto purtroppo. Ed anche le antennine sulla sua testa fortunatamente sono in gomma molto molto flessibile. Ed anche le articolazioni sono le stesse del suo compare. Possiamo muovere le braccia in avanti e indietro con movimento a scatti. Possiamo allargare le sue spalle e piegare i suoi gomiti. Ed anche terremoto potrà bombardare il nemico sparandogli addosso i suoi pugni. Lo faremo premendo i bottoncini gialli sugli avambracci. Vediamo se riusciamo a spararli entrambi e così scopriremo anche con quale violenza verranno proiettati via. Uno e due. Non male, sarà abbastanza per abbattere magari un personaggio in vinile molto leggero. E per simmetria premendo questo bottoncino giallo sul suo tallone il GB20 sparerà via il ditone del suo piede sinistro. E molto lontano anche. Il set include ancora due armi. Abbiamo il trapano. Questa specie di trivella che sarà gigante considerando che il nostro robot è alto 47 metri. E trovo appropriato mostrarvela insieme al robot che si occupa della terra. E poi abbiamo una terza spada. Anche questo accessorio in plastica cromata non è gigantesca come la più grande che abbiamo visto. E ha una forma particolare con queste due lamelle accessorie sulla punta. A questo punto vediamo l'aspetto più atteso del nostro robotone. L'aspetto più giocabile. E cioè la sua trasformazione. Per metterla in pratica potremo fortunatamente usare il libricino delle istruzioni che abbiamo in versione tradotta in italiano da Cepirati. E qui dentro anche che abbiamo trovato le informazioni sui robot che lo compongono. Per ognuno di essi ci viene anche detto il nome del pilota. E finalmente ecco i godzi. God Sigma. Un titano alto 65 metri per il peso di 1200 tonnellate. Il nostro robotone invece è alto 26 centimetri. Oltre ai dettagli che abbiamo già visto sui tre robot che lo compongono. Si aggiungono quelli dello zainetto alato. Il big wing in plastica colorata con adesivi metallizzati. Il God Sigma con i suoi pugnoni blu potrà impugnare la spada più grande che troviamo nella confezione. Che è veramente molto molto lunga. E come articolazioni? Beh, alle articolazioni delle braccia che abbiamo già visto nel robot singolo Tuono. Esteticamente l'unica nota negativa di God Sigma è la presenza di questi piedoni avanzati nel retro delle sue gambe. Per il resto la trasformazione dà molta soddisfazione ed è ingegnosa in modo in cui siano riusciti a compattare il corpo di Tuono allargandogli le spalle e trasformandoli in un torace ben più massiccio e a ridurre gli altri due robot a parallelepipedi che poi fungono da gambe. Che si trattasse di un giocattolo di fascia molto alta è reso evidente anche dagli agganci fra le varie componenti. Nulla è affidato all'attrito e per separarle sarà necessario premere pulsantini a molla. Per quanto ci fossero altri Chogoking con più metallo, in realtà il nostro God Sigma risulta alla fine un giocattolone da quasi otto etti. E nel complesso anche ben bilanciato perché la maggior parte del peso è concentrata proprio nei piedi. Quindi questo ne aiuta l'equilibrio. Insomma il nostro God Sigma Deluxe è veramente un giocattolo splendido, esteticamente presenta benissimo ed è esattamente quello che avremmo voluto sognare quando guardavamo il cartone animato da piccoli. È coloratissimo, non manca veramente nessun dettaglio. Tra l'utilizzo delle cromature, delle parti in metallo, degli adesivi metallizzati, l'aspetto è fantastico, molto sofisticato. Mettere insieme questa recensione è stato piuttosto impegnativo perché ci sono un po' di componenti da mostrare, alcuni meccanismi e tutto quanto è piuttosto delicato e molto molto costoso. Quindi avevamo veramente paura di rovinarlo. Ciò nonostante, la nostra premura era quella di mostrarlo come un giocattolo e non come un oggetto da museo. Volevamo farvi vedere tutte le sue funzioncine, tutte le parti mobili, tutto ciò che avrebbe usato un bambino giocandoci negli anni Ottanta. Il God Sigma Deluxe era un gran bel giocattolo. Delicato per forza con queste parti cromate ma in realtà rispetto ad altri giocattoli dello stesso panorama, studiato meglio in maniera più funzionale. Le parti più sottili sono in gomma flessibile e il fatto che per separare le varie componenti si utilizzino dei pulsantini e non ci si affidi solamente all'attrito, rende il giocattolo più duraturo. Abbiamo in serbo altre chicche simili da mostrarvi con un pochino di pazienza ma nel frattempo pensiamo e speriamo di avervi dato un video insolito. In generale i giocattoli vecchi come questo vengono mostrati come rottami un po' malconci oppure semplicemente esposti in vetrina e si dedica più attenzione alle edizioni moderne, diverse da questa realizzate per un pubblico di adulti e nostalgici. Noi dunque speriamo che il video vi sia piaciuto intaccato potete cliccare su mi piace qui questo ci aiuterà molto mentre invece cliccando sul bollino blu li prendi potrete iscrivervi al nostro canale dove troverete un'infinità di video dedicati alla storia dei giocattoli, ai giocattoli moderni, quelli del passato e anche curiosità diverse. Ciao! Ciao!